Muore ad Agropoli mentre fa il bagno e la sesta vittima dell'estate nera cilentana. Si chiama Danco, il cane supereroe, al servizio dell'unità cinofila di Vallo della Lucania, che salva altri cani vittime di avvelenamento. La goletta verde boccia la costiera salernitana, rilevate zona ad alto tasso di inquinamento ambientale. Finita in pari la partita amichevole Gelbison Nola allo Stadio Morra e i nostri microfoni mister delle due compagini Martino e Ferrazzoli. Intanto in Casa Rosso Blu cresce l'attesa per il derby di Coppa Italia con l'Agropoli. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'edizione delle TG7. In primo piano, come avete poc'anzi ascoltato la cronaca, con la tragica scomparsa di Saverio Gentili ad Agropoli. Si tratta della sesta vittima di quest'estate cilentana. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Ernesto Rocco. Ancora una tragedia nel mare del Cilento. Nella giornata di ieri, intorno alle 17.30, Saverio Gentili, 75 anni, è morto sul lungomare San Marco di Agropoli. Stando alle prime ricostruzioni, era appena entrato in acqua per un bagno quando accusato un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo, inizialmente da parte dei bagnini e delle persone presenti, poi da parte dei sanitari della Croce Bianca di Agropoli. Inutile però ogni sforzo da parte dei medici del 118. Quella di Saverio Gentili è soltanto l'ultima tragedia del mare, che nel caso di Agropoli ripropone con forza il tema della sicurezza e dell'assistenza sanitaria. In molti, infatti, chiedono un potenziamento delle ambulanze, solo una in funzione rianimativa, dopo la sospensione del servizio della Croce Azzurra, e di potenziamento dell'ospedale civile di Agropoli. Saverio Gentili è la sesta vittima dell'estate cilentana. Nei giorni scorsi due decessi, sempre per caso e naturali. Uno a Casalvelino, si tratta di un 71enne rinvenuto morto nello specchio d'acqua antistante alla spiaggia di Copacabana, Vincenzo Sorrentino. L'altro a Palinuro, dove Domenico Alfieri, un turista anche lui, è morto mentre consumava un drink insieme alla moglie. Una decina di giorni fa, invece, la tragedia di Casa del Conte, con la morte di Francesco Guidone, funzionario IMSS annegato in mare. E poi la tragedia che più di tutte ha segnato quest'estate, quella di Biagio Manganelli, il quindicenne di Agropoli, morto risucchiato dalle correnti. All'inizio della stagione balneare, un'altra vittima era stata segnalata nel litorale tra Caprioli e Palinuro, un uomo di 84 anni che perse la vita mentre notava, a causa anche lui, di un malore improvviso. Si chiama Adanco, il labrador che salva dei cani avvelenati nel Vallo di Diana. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Antonio Sica. Cani addestrati a salvare gli altri cani. Si chiama Adanco ed è un labrador a 4 anni ed è operativo in Cilento da 3 anni. Viene dalla Spagna dove è stato addestrato ed è poi entrato in servizio a Vallo della Lucania presso il nucleo antiveleno dell'unità cinofila dei Carabinieri Forestali di Vallo, insieme a un pastore belga che si chiama Gala. Questi due cani antivelene hanno compiuto già tanti interventi di bonifica in tutto il territorio campano. L'ultimo intervento di Danco si è svolto nel Vallo di Diano, prima a Sala Consilina e poi a San Rufo. Nel comune capofila del Vallo di Diano, dopo i recenti casi di avvelenamento di due cani, una bonifica urgente era stata richiesta tramite il comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina dal sindaco Francesco Cavallone. L'intervento è stato eseguito mercoledì mattina ed ha visto impegnati i Carabinieri Forestali di Padula, guidati dal brigadiere Alfonso Consalvo, i militari dell'arma della stazione di Sala Consilina, guidati dal luogotenente Raffaele D'Amato e la polizia municipale di Sala Consilina, rappresentata da Andrea Lasala. Fondamentale ovviamente è la partecipazione del nucleo antiveleno dell'unità cinofila dei Carabinieri Forestali di Vallo della Lucania, con l'appuntato scelto Federico Ferraro che ha condotto Danco alla ricerca di eventuali altre esche avvelenate e lasciate sul terreno da persone senza scrupoli. La bonifica si è svolta prima nell'area Cappuccini e in altre zone di Sala Consilina e poi si è spostata a Sarrufo dove nei giorni scorsi diversi cani erano stati uccisi con polpette avvelenate. Purtroppo il fenomeno è in forte diffusione nei territori del Vallo di Diano e del Cilento, dove si sta estendendo a macchia d'olio. Di qui gli interventi sempre più richiesti di Danco e Gala, non più solo cani addestrati a salvare gli uomini in mille modi diversi, ma anche cani addestrati a salvare gli altri cani, sempre più esposti alle barbarie e alla cattiveria degli uomini. Dopo gli ultimi episodi che ci sono stati segnalati e che sono accaduti all'interno del territorio di Sala Consilina, ci è sembrato giusto fare una segnalazione al settore forestale dei carabinieri di Sala Consilina proprio per fare un riscontro sul territorio, onde evitare che determinati episodi possano ricapitare. Sono andati in vari punti della nostra cittadina con i cani, proprio per controllare se ci potessero essere dei punti da cui si potesse risalire a questi fatti spiacevoli che sono capitate all'interno del nostro territorio. Io credo che questo sia un segnale importantissimo dato alla cittadinanza perché credo che ci voglia il rispetto di tutti, ci voglia il rispetto degli animali. Gli animali devono essere, nel specifico i cani, devono essere tenuti sicuramente nelle migliori condizioni dai proprietari, però nello stesso tempo ci deve essere rispetto di tutti i cittadini anche per i cani e quindi credo che questo sia stato un segnale importantissimo. Noi l'abbiamo fatto oggi e crediamo di fare anche delle altre richieste in futuro perché credo che anche attraverso un monitoraggio del territorio sicuramente si possono prevenire ulteriori episodi del genere. Dopo aver fatto tappa presso la costiera salernitana, la Goletta Verde ha rilevato zone ad alto rischio, ad alto tasso di inquinamento ambientale. Ascoltiamo i dettagli. Il dossier di Goletta Verde boccia il litorale salernitano. Nel salernitano, infatti, su 13 punti monitorati tra il 14 e il 18 luglio scorsi, 10 sono risultati fortemente inquinati. Inoltre, per il decimo anno consecutivo, le foci del fiume Irna a Salerno e del torrente Asa a Ponte Cagnano mostrano un inquinamento cronico ed è un record, nonostante gli esposti dell'associazione nei controlli delle forze dell'ordine, spiegano dall'associazione ambientalista. A tutto questo si aggiunge che il 49% dei controlli effettuati l'anno scorso dall'ARPAC ai depuratori sparsi per la provincia di Salerno hanno dato un esito non conforme. Nella zona più propriamente cilentana, i punti monitorati fortemente inquinati si trovano a Capaccio, presso il lungomare Laura, foce Capodifiume e fiume Solofrone e nel Lido tra Capaccio e Agropoli. Anche a Centola Caprioli Baia degli Angeli e alla Focerio, presso la spiaggia, le analisi fisico-chimiche riscontrano un elevato tasso di inquinamento. Entro i limiti, i risultati dei punti campionati a Castellabate e Montecorice, in località Ogliastro, Baia Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena, a Vibonati, in località Villa Mare, sulla spiaggia di fronte al rio Cacafave. Molteplici sembrano essere i fattori inquinanti, fra cui, oltre agli impianti depurativi malfunzionanti, la proliferazione di alghe e mucillagine per i nutrienti provenienti dai settori intensivi dell'agricoltura e della zootecnia, presenti in particolare nella Piana del Sele. È troppo spesso sottovalutato, inoltre, anche l'improprio smaltimento degli oli esausti. Nel mirino dei controlli di legambiente continuano ad esserci tuttavia foci e canali, principali veicoli dell'inquinamento microbiologico. Sì, diciamo che la presenza di marine litter è abbastanza costante, poi ci sono dei tratti in cui ne troviamo un pochino di più, dei tratti un pochino di meno. Per adesso io sono stati sulla coletta una tappa calabrese, quindi ho monitorato da Goligliano fino a qui. Ancora dobbiamo rielaborare i dati e analizzarli, comunque compilo diverse tabelle tutte le volte che traversiamo. Tu praticamente, quando la Goletta è in navigazione, hai la tua postazione e osservi il mare, pronta a segnalare. Sì, ho un GPS e poi ho una scheda in cui ogni oggetto che segnalo, che poi la maggior parte delle volte appunto per l'80-90% è plastica, però può essere anche ricomma o carta. Ogni oggetto che io riesco ad avvistare cerco di cadricolizzarlo, quindi cercare di capire da dove viene e che tipo di frammento può essere, quindi magari una cassetta di polistirolo, o un frammento di una busta di plastica o un giocattolo, i palloncini, qualsiasi cosa. I dati che tu raccogli poi come vengono utilizzati? Allora, i dati vengono prima elaborati e poi ci sarà appunto un'elaborazione della prima sistema GIS, una densità appunto di plastica nel mare, dove vedremo delle aree maggiormente inquinate o comunque dove troviamo più plastica rispetto ad altre. Continua il progetto Vallo Città della Musica, in particolare stasera presso il Chiostro del Palazzo della Cultura a Vallo della Lucania ci sarà il concerto degli allievi della Master Class di Viola con la partecipazione straordinaria di Danilo Rossi e del maestro accompagnatore Stefano Bezziccheri. Domani sera sarà la volta del concerto degli allievi della Master Class di Flauto e Canto Pop con la partecipazione straordinaria di docenti di fama internazionale, in particolare il primo Flauto della Scala Marco Zoni, la maestra Maria Teresa Petrosino e del maestro accompagnatore Stefano Bezziccheri. Da Vallo della Lucania ci spostiamo a Teggiano dove cresce l'attesa per la ben nota rappresentazione scenica L'Assalto al Castello nell'ambito della festa medievale alla tavola della Principessa Costanza. Ascoltiamo. Ritorna a Teggiano la ricostruzione teatrale dell'Assalto al Castello uno spettacolo che si tiene nell'ambito della festa medievale alla tavola della Principessa Costanza dall'11 al 13 agosto promossa e realizzata dalla Scabec Regione Campania in collaborazione con il Comune di Teggiano in programma 11, 12 e 13 agosto al Castello Macchiaroli l'antica fortezza di epoca normanna del Vallo di Diano sede anche della famosa Congiura dei Baroni del 1485 locato nel pieno centro storico del paese salernitano più di 400 i figuranti inoltre del corteo storico diretto da Enzo d'Arco anche regista dello spettacolo che prende il nome dalla manifestazione stessa Assalto al Castello in scena tutte le sere a partire dalle ore 23 la piece teatrale sarà arricchita quest'anno dagli elementi scenografici delle porte medievali della città di Diano la partecipazione allo spettacolo è gratuita alla tavola della Principessa Costanza è una spettacolare macchina del tempo che coinvolge tutta la comunità di Teggiano capace di riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi percorrendo le antiche stradine si resta rapiti ed ammirati dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri che fanno da contorno al centro storico cittadino uno scrigno d'arte che per tre giorni offre a migliaia di visitatori tutti i suoi preziosi gioielli chiese antichi palazzi, musei e opere d'arte ci spostiamo a Palinuro il portale Home2Go ha realizzato una graduatoria con le top 20 destinazioni più gettonate dagli italiani le case vacanza più ricercate in Campania sono a Palinuro in quindicesima posizione prima delle campane si piazza proprio la perla della costiera cilentana qui il costo medio a notte di 189 euro figurano nella classifica anche alcune mete internazionali come Ibiza, Barcellona, Formentera Santorini e Miuconos e restando sulla costiera cilentana andiamo a Pollica sabato 10 agosto sarà consegnato il premio Angelo Vassallo giunta alla sua ottava edizione il premio è stato istituito in ricordo del sindaco di Pollica Angelo Vassallo ucciso barbaramente nel 2010 viene riconosciuto ogni anno un sindaco che nella sua azione di governo si sia adoperato per la tutela ambientale e la trasparenza amministrativa sperimentando pratiche innovative che possono essere di esempio per gli altri amministratori e dalla costa andiamo all'entroterra esattamente a Cuccaro Vetere dove tutto pronto per la 37esima edizione del ben noto Palio del Ciucci uno degli eventi più attesi dell'estate cilentana eccoli qua eccoli qua gli ucci gli ucci devi completare la curva e the winner is the winner eccoli qua Carrato Carrato Antonio Tutto pronto a Cuccarovetere per celebrare la 37esima edizione del Palio del Ciuccio, dedicato come ogni anno all'umile compagno di lavoro del contadino, uno degli eventi più attesi dell'estate cilentana. Il Ciuccio sarà infatti protagonista indiscusso della Tre Giorni al Via da Domenica 11 e che culminerà il 13 con la tradizionale gara di velocità tra gli asini, cavalcati a pelo dalle delegazioni comunali nella piazza del Paese in una serata condotta da Alessandro Greco. La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Proloco Cuccarese e l'asino ne ha il simbolo quale esaltazione della laboriosità e della docilità dell'animale, compagno della quotidianità dei contadini di un tempo. Quest'anno l'evento vede un programma particolarmente ricco. Si comincia giorno 11 agosto a partire dalle 21 con la cerimonia di apertura del percorso gastronomico e quadretti di vita contadina, una serata inoltre dedicata al Palio dei Piccoli in cui protagonista sarà l'asino in una serie di giochi per i bambini organizzati nella piazza principale del Paese. Il 12 agosto la serata sarà arricchita da una sezione culturale che accenderà i riflettori su Cuccaro Vetere. Alle 21 si svolgerà infatti la sesta edizione del premio Le Città del Palio, nato nel 2014, che viene conferita annualmente a personalità, enti o istituzioni che si siano distinti nella loro attività quotidiana nella promozione della piccola Italia o del Cilento. Quest'anno sarà conferito a Monsignor Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano all'Oionio e all'Onorevole Marco Minniti, già Ministro dell'Interno. La serata sarà condotta da Antonio Manzo, direttore della città di Salerno. Infine, il 13 agosto alle ore 20 avverrà la tradizionale sfilata degli sbandieratori di Ori a provincia di Brindisi e in particolare i suggestivi costumi d'epoca della civiltà contadina percorreranno le vie del borgo. Concorreranno al Palio diverse aziende locali. Il Palio del Ciuccio ha una storia ultra secolare. Infatti, già dai primi del Novecento, la corsa si teneva durante la festa patronale di San Pietro Apostolo, tradizione che è stata ripresa nel 1983 con l'intento di promuovere il territorio. No, 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 no. No, 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 no. Ma solo perché è lo signor Sintoro. Lo facciamo delle cose in sicurezza. Che dite? Facciamo un applauso al nostro nonno, nonnino Sceppo, nonno Sceppo. Signor Sintoro, mi raccomando. Per me, vedi, ha alzato la corda, è passato. Ha alzato proprio per questo, perché la corda si è alzato. È il lavoro per un nipote. Caro nonno, vedi. Si è svolto il Gigante della Campania, lo spettacolo teatrale più alto della regione, infatti si tiene sulla vetta più elevata della campagna, ossia il Monte Cervati, intorno al quale Francesco Domini ha scritto un affascinante libro. Ascoltiamo. In collaborazione tra la Cantina delle Arti, il CAI Montano Antili e il Rifugio Cervati, nasce il Gigante della Campania, lo spettacolo teatrale più alto della regione, in scena sulla vetta del Monte Cervati. Giunta alla sua seconda edizione, il progetto, patrocinato e organizzato dal Parco Nazionale del Cilento, Valodidiano e Alburni, intende puntare i riflettori sul Monte Cervati, quale grande attrattore naturalistico, in grado ancora una volta di rendersi protagonista indiscusso del territorio. Tra i relatori alla conferenza di presentazione dell'ambizioso e affascinante progetto, Tommaso Pellegrino, presidente del Parco, Enzo Darco, autore e protagonista dello spettacolo, e Francesco Domini, autore dell'opera Cervati, lo spirito di una generazione fantastica, narrante storie e leggente riguardanti la vetta più alta della campania, e affrontando tematiche quali l'ospitalità della gente rurale di Sanse e Piaggine, il sapore genuino dei cibi tradizionali e l'escursionismo naturalistico roccaforti dove cercare la ricchezza del nostro territorio e le potenzialità sulle quali dobbiamo costruire l'offerta turistica. Ciò che all'inizio era un luogo fisico in tutta e per tutta, afferma Francesco Domini nell'opera, è poi diventato un posto nella mente e per la mente, un rifugio in cui ricoverarsi quando la pressione dall'esterno si alza diventando quasi insostenibile. Ho sempre creduto di essere un privilegiato a poter vivere tutto ciò ed oggi più che mai ne ho la reale conferma. Questo libro più che riferirsi alla montagna, geomorfologicamente parlando, si riferisce a una generazione di persone che su quella montagna ha passato del tempo e che è proprio come una popolazione, come un popolo, una settimana all'anno insomma popola quei boschi, perché chiaramente ne è rimasto affascinato e quindi per fare in modo che restasse traccia di questa transumanza, chiamiamola così, ho voluto scrivere un pamphlet, non è neanche un libro, insomma, che sicuramente è stato ispirato comunque dalla bellezza dei nostri boschi. A Gioi Cilento si è svolto un evento promosso dall'associazione Christian Maghi, esattamente Street Soccer. Ce ne parla Antonio Pagano. Siamo a Gioi con la squadra vincitrice del torneo di Street Soccer, Botafiga. Come vi chiamate? Botafiga. Come ti chiami tu? Giuseppe, da sport. Che esperienza è stata per voi, vi è piaciuto? Sì, bellissima esperienza, ringraziamo Francesco e tutti gli organizzatori, grandissima esperienza, speriamo che ci vediamo l'anno prossimo. A Gioi Cilento si gioca Street Soccer. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta la prima edizione di The Cage, il nuovo evento estivo promosso dall'associazione Christian Maggio. Il torneo ha visto la partecipazione di 32 squadre, composte da due giocatori ciascuna, presenti anche squadre da paesi limitrofi, prima classificata alla compagine dei Botafiga di Cannalonga. Siamo con Raffaele Catino, a Gioi lo Street Soccer. Che esperienza è stata per te? Innanzitutto, buonasera, è stata una bella iniziativa per portato qui in montagna, oltre la sabbia, come in ogni anno la portiamo in piazza. Per il Biccioli abbiamo deciso di portare questo 2 contro 2 qui a Gioi Cilento. Diciamo che è stata una bella iniziativa. Diciamo che stasera pure non c'era tanta di quell'agente, anche perché molta si è spostata a Vallo per le festività di San Bandaleo, però la data non c'erano più date per poterle posticipare. Sì, è stata una bella esperienza. Speriamo l'anno prossimo di ripeterci, magari di allungare un altro po' il campo, perché no, per il 2 contro 2, ma di fare un 3 contro 3, di dare spazio a qualche sostituzione. E ora vediamo, è stata una prima iniziativa, diciamo che è andata bene. L'appuntamento è per agosto per il Biccioli? Sì, sicuramente. Questa associazione è nata solo ed esclusivamente per il Biccioli, però c'è stata questa novità quest'anno per fare, dato che il periodo di luglio è povero di eventi nel nostro paese, abbiamo deciso di divertirci in questi cinque giorni con stand di gastronomici. Ringrazio tutta l'associazione Cristian Maio, tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano, a chi ci è venuto a vedere, a chi è partecipato e spero dell'anno prossimo di raddoppiare con le squadre. Restiamo nell'entroterra cilentano, a Ceraso, festa del fiume dal 7 al 9 agosto, piatti tipici della tradizione locale e musica popolare, con la partecipazione del gruppo Chorus Mediterraneo, alle ore 20 e 30, apertura degli stand nel giardino comunale di Ceraso. In occasione della manifestazione, il Museo della Civiltà Condadina sarà aperto anche di sera, evento aderente a Plastic Free, la Proloco Ceraso invita tutti a partecipare. A Santa Barbara di Ceraso, una delle frazioni, si terrà la seconda edizione di Riscopriamo il sapore dello stare insieme dal 12 al 14 agosto. Le serate saranno allietate da musica popolare, passeggiata per le vie del paese, tra vicoli e portoni, alla scoperta della civiltà contadina di una volta, gustando i sapori della vera cucina cilentana. Tutto il ricavato della manifestazione andrà per i lavori di completamento della Chiesa. Il parroco e la comunità vi invitano alla festa. Non ci sono altri aggiornamenti, vi invitiamo a restare con noi per la seconda parte del nostro telegiornale, con diverse notizie dal mondo dello sport. Ora qualche istante di pubblicità. Grazie a tutti.